Il mondo del gossip italiano è in fermento dopo le ultime dichiarazioni di Taylor Mega riguardo al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Durante un intervento nel podcast Gurulandia, l'influencer friulana ha nuovamente toccato il tema della presunta coppia aperta che avrebbe caratterizzato la relazione tra i due noti personaggi. Queste affermazioni, già emersi in precedenti interviste, hanno riacceso l'interesse del pubblico e dei media, portando a una serie di speculazioni e discussioni. Nel suo intervento, Taylor Mega ha affermato di avere informazioni dirette riguardo alla vita privata di Fedez e Chiara. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla Ferragni a striscia la notizia, la coppia fosse effettivamente consenziente riguardo a relazioni extraconiugali. Se Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico o non è vero nulla, ha chiesto provocatoriamente Mega, confermando la sua posizione sulla questione. La sua affermazione ha sollevato un polverone, portando molti a chiedersi quale sia la verità dietro le porte chiuse della coppia. Chiara Ferragni, dal canto suo, ha sempre negato l'esistenza di una relazione aperta, affermando che non era a conoscenza di una situazione del genere. Se significa che uno tradisce e l'altro no, io non sapevo di essere una coppia così, ha dichiarato, lasciando intendere di essere stata tradita. La contraddizione tra le dichiarazioni di Mega e quelle di Ferragni ha alimentato ulteriormente il dibattito, con i fan divisi tra chi crede a Mega e chi difende Chiara. Oltre alle rivelazioni sul matrimonio, Chiara Ferragni è finita nel mirino dei paparazzi anche per un'altra vicenda. Secondo C Magazine, l'imprenditrice digitale sarebbe stata avvistata in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, erede della casa Pirelli. Gli scatti pubblicati mostrano i due a pranzo a Villa d'Este, suscitando ulteriori speculazioni su una possibile nuova relazione. La coincidenza di arrivare al ristorante nella stessa automobile ha fatto pensare che tra i due ci sia una certa intimità, alimentando il gossip. In un panorama mediatico, dove le voci si rincorrono e le verità sono spesso sfuggenti, resta da vedere come si evolverà questa situazione. Le dichiarazioni di Taylor Mega e le reazioni di Chiara Ferragni continueranno a tenere banca.